Crescono i redditi medi in Friuli Venezia Giulia, rimane però il problema del gender gap. Le dichiarazioni presentate dalle donne sono inferiori di oltre 10.000 euro rispetto a quelle degli uomini. Il dato emerge da un'indagine dell'IRES sui dati del Ministero Economia e Finanze. In base alle dichiarazioni IRPEF 2023 riferite al 2022, il reddito complessivo medio, calcolato su un totale di 928.917 contribuenti, si attesta a 24.568 euro, in aumento rispetto ai 23.510 del 2022. In media le donne presentano un reddito complessivo pari a 19.324, rispetto ai 29.586 degli uomini 34,7 in meno. Negli ultimi anni, osserva l'IRES, tale differenza si è leggermente ridotta, 5 anni prima era al 35%, pur costituendo quasi la metà dei contribuenti, tra le donne solo il 26% supera i 40.000 euro. Il divario, osserva l'IRES, si registra anche sulla base dell'età. La fascia 45-64 anni registra il reddito medio complessivo più elevato, circa 29.000 euro, superiore a quello degli over 65, che è inferiore a 24.000 euro, e dei 25-44 anni, poco più di 21.000 euro. Emerge inoltre, come sottolinea il contributo maggiore al fisco all'imposta netta IRPEF da parte delle persone nate all'estero, un record pari all'8,8% del totale, rispetto alla media nazionale del 5,8%. A livello territoriale, la provincia di Trieste è presente al reddito complessivo medio più elevato, quasi 26.000 euro, seguita da Pordenone 24.596 euro, Udine 24.351 euro e Gorizia circa 23.000 euro.